segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te si è data in questo modo come dire è anche la conferma la smentita voglio dire che non si non poteva essere un drone auto mandato dai russi cioè questo voleva dire che non era un fatto interno che non era un fatto interno a differenza di quello che capita appunto nell'incursione del territorio oltre a quello che diceva Giancarlo che spesso è successo è probabilmente anche in questo caso nella dinamica tra chi è questo triangolo tra chi è washington contro mosca mettiamoci dentro anche londra come sono d'accordo è stata inserita c'è anche qualcos'altro c'è di solito gli americani lo fanno anche per smarcarsi da un ulteriore escalation nei confronti della russia per esempio nei confronti dell'attacco al ponte di kerch non erano d'accordo molto probabilmente ce l'hanno proprio giudicato eccessivo perché vanno perché abbiano ovviamente a cuore le sorti della russia perché questo poteva poi scatenare una reazione perfino maggiore in questo caso giocano anche no quindi a mezzo stampa dicono da un lato forse davvero troppo per noi ma se anche ne lo fosse cara russia noi non c'entriamo niente cioè è un gioco delle parti degli specchi che si muovono anche per rendere più fumosa poi la risposta russa cioè con chi prendersela davvero gli americani quanto c'entrano fino in fondo questi movimenti la stampa americana con mezzi che la nostra probabilmente giudicherebbe un po strambi cioè la famosa fonte anonima no che i nostri giornalisti giustamente di solito non giudicano in maniera eccellente quando c'è una foto chi a meno che non si tratti di politica italiana quotidiana fonti vicine alla presidenza anche con autocritica lo dico ma però sono fonti sono a volte effettivamente qualcuno dice qualcosa autorevole ma questo è un altro discorso nel senso qui le fonti utilizzate sulla stampa anglosassone sono a parte in tutti gli articoli non è soltanto quando c'è il segreto oppure la cosa che non si può dire per aperta voce ma lo si usa proprio per lanciare messaggi incrociati cioè sono i giornali che si prestano all'utilizzo da parte dell'intelligenza americana di messaggi verso mosca si può giudicare diciamo sul piano deontologico però la stampa anglosassone zeppa di questo serve proprio da megafono in questo caso per lanciare però dichiarata in questo modo c'è anche da dire c'è una sorta di trasparenza sul fatto che non è uno scoop che hai fatto diciamo perché hai scoperto qualcosa ma ma l'hanno detto qualcuno te l'ha detto e questo viene detto hai avuto accesso hai avuto accesso a delle fonti e poi l'autorevolezza del giornale fa sì che tu creda all'autorevolezza di quella fonte credo che questo vada detto no questo è giusto ma finché è successo che i giornali americani a volte sono finiti nei guai per questo motivo perché la fonte diceva x loro ci hanno aggiunto una parte questo succede spesso però nel caso specifico rimanendo al messaggio il messaggio è quello che diceva giancarlo quenzi e in più il dire noi anche se fossimo stati d'accordo non ne sapevamo niente però questo ci porta a una domanda che ci